Oggi abbiamo incontrato una delegazione e abbiamo perimetrato meglio il problema. I comuni montani sotto i mille abitanti non hanno alcun problema ad avere una gestione autonoma e la Regione li accompagnerà serenamente in questa esperienza prevista dalla legge. I comuni che sono fuori dal gestore, cioè non sono dentro Abanoa, ma vengono riforniti da Abanoa, ma pensiamo che possano trovarsi in un rapporto diverso, che valorizzi di più le loro competenze, nel rapporto sempre con Abanoa, ma in maniera più strutturata. Poi ci sono i comuni autonomi, nel senso che hanno acqua propria, impianti proprie e reti proprie, e lì bisogna aprire una discussione un po' più approfondita, che secondo me va aperta, rispettando il principio di sussiderietà della Costituzione. Quanto ad Abanoa, Abanoa chiudeva i suoi bilanci nel 2012 in grave bilancio economico e finanziario, il 13 è andato in attivo economico, il semestrale della 14 è in attivo economico e chiuderà in pareggio, gli incassi sono aumentati, i concorsi per la dirigenza sono stati fatti, stanno facendo investimenti rilevanti, non si cambia la realtà in un attimo, però Abanoa di oggi è sicuramente migliore di quella di ieri. Puoi cullarsi sugli allori, è sbagliato, però l'unico modo per cambiare le cose è un lavoro quotidiano, faticoso, accettando anche le critiche che è giusto che vengano rivolte a chi governa, ma chi governa deve tenerne conto e lavorare, non fermarsi.